Nella bella campagna modicana sorge il casale Raimonda, una bella villa dove ogni comfort è garantito, risultato di un'attenta ristrutturazione in chiave moderna di una vecchia masseria con baglio, conservando con cura il carattere originale del casale. Ogni dettaglio è stato curato utilizzando solo rifiniture di altissimo standard. La villa si sviluppa per circa 200 metri quadrati su piano terra e per circa 100 metri quadrati al primo piano, dove troviamo la camera padronale con bagno e suite, una zona lettura e uno studio. Al piano terra tre camere da letto, un grande living, una cucina abitabile, una sala da pranzo e due bagni. All'esterno un grande garage per due posti auto e 13.000 metri quadrati di terreno con orto e frutteto. È stato anche eseguito uno scavo per la costruenda piscina. Prezzo 750.000 euro trattabili. Grazie a tutti. Grazie a tutti.